Fiore, fiore, fiore. I figli dei fiori, ho fatto anche un video, lo potete cercare, era quella generazione dei pace, amore e meditazione che ha avuto origine in California, poi si è estesa all'America, un po' anche all'Europa e andavano in India a cercare la imsa, la non violenza, la filosofia dell'amore esteso a tutti gli esseri umani e anche le altre forme di vita. Chi sono i fiori morti? Quelli che vengono staccati. Quando un uomo dicono vuole corteggiare una donna, gli dà un mazzo di rose, rosse, morte, morte perché la rosa sta bene dove sta. Io non ho mai colto un fiore, non voglio cogliere i fiori, ecco una cosa che anche in India non mi andava, le ghirlande e i fiori, ma lascia i fiori dove sono, lascia i fiori dove sono. Al posto delle ghirlande e i fiori si possono usare di gioielli, i sedi, ma perché togliere la vita un fiore? Lasciamo i fiori dove sono, nei prati, nelle aiuole. Uno dice, ma dove sono i prati? Bisogna dare spazio a far crescere più fiori nei prati, nelle aiuole, nei campi. Altri fiori sono i giovani che vengono mandati a morire. Nelle guerre, si dice, i generali muoiono di vecchiaia e quelli che vanno a morire sono tra i 18, i 20, i 22, i 25 anni, sono fiori morti, fiori sradicati e mandati a morire, in tutte le guerre. Bertolt Brecht diceva più o meno, caro soldato, stai attento, il tuo nemico marcia alla tua testa, cioè il tuo nemico non è quello che viene contro, è quello che ti porta a morire, che ti porta al massacro, è quello che strappa un fiore, perché ogni giovane è un fiore. fiori morti, chi sono? Sia i fiori quelli dei campi, sia le nuove generazioni, mandate al massacro. Come mai durante il Covid, non lo dicono, l'ha dovuto dire il Papa, ho letto l'altro giorno, sono in aumento e poi i cifre non vengono rivelate, i suicidi tra i giovani, i giovani sono la nuova generazione, ma come? C'è una lamentela per il fatto che in Italia nascono meno bambini, ma se poi si suicidano? Ma come mai si suicidano? Perché non vedono il futuro, perché è proibito toccarsi, abbracciarsi, la mascherina, andava impostata in un modo completamente diverso. Quando hanno scoperto che la maggior parte di quelli che sono morti di Covid, sono morti di Covid più malattie pregresse, cioè malattie che avevano prima. Bene, facciamo qualcosa. No? Chiaro che poi in una casa di riposo, se si ammalava uno, cosa fai? Lo isoli? Ma non è stata gestita bene, ma soprattutto secondo me non è stata gestita bene verso i ragazzi, le ragazze in crescita. Sono stati traumatizzati, per cui qualcuno l'ha chiamata psicopandemia, per cui sono in aumento i suicidi tra i giovani in Italia, fiori morti. Allora bisogna che chi si occupa di religione, di spiritualità, di politica, di psicologia, si uniscano, si uniscano. qui faccio una richiesta a un mio amico sacerdote, a Don Sergio Mercanzin, a un professore, psicologo, presidente dell'ordine dei psicologi, che si chiama Davide Lazari. Sono cari amici e dico a loro, ma perché non fate qualcosa che mette insieme la spiritualità, la politica, la psicologia, per aiutare i giovani a non suicidarsi? Perché questa società deve avere sulla coscienza la morte di giovani che non muoiono di fame, ma muoiono come un fiore staccato, muoiono un po' al giorno, perché il fiore che cosa fa? Non è che tu lo strappi, non è che prendi un tilipano e ti muori in mano, un po' al giorno. Cioè, dagli l'acqua, sì, è come dire a uno, mantieni uno a pane acqua in galera, muore. Cioè, una volta li ammazzavano così. Io non ho mai capito i fiori sulle bare, ma è già morto uno, perché dobbiamo far morire altri fiori. Ma non è un discorso strano, se ci pensi bene. strappiamo dei fiori per fare delle corone, non è da mettere, no? Su, è morta l'Argine d'Inghilterra, migliaia e migliaia di massi di fiori a morire per terra davanti a Buckingham Palace. Se il discorso ti sembra strano, rifletti sul fatto che anche il fiore ha diritto a vivere, anche un giovane ha diritto a vivere. Il giovane, ragazzo, ragazza. Quindi, basta con le guerre, basta con la violenza e basta con la paura. Psicopandemia vuol dire paura, paura, paura. Quindi io mi auguro che tu, per il potere che puoi avere, possa contribuire a una società spirituale, umana, dove si vedono le aiuole fiorite, dove si vedono i prati fioriti. Quella è la bellezza, quella è la bellezza. Sull'Himalaya, ne parla su Amirama, che vi consiglio di leggere i suoi libri, sono delle valle di fiori dove sono migliaia, milioni di fiori che quando fioriscono danno un tale profumo nell'atmosfera che crea stati elevati di coscienza. Io ho parlato in Italia, non sono mai andato in queste vallate nella stagione giusta, ma chi c'è stato ha detto che è un'esperienza da pianeti superiori. Quindi i fiori vanno amati, rispettati, ma non vanno tagliati, né i fiori vegetali, né i fiori umani. Viva la vita in ogni sua forma e manifestazione. Grazie.